Sapori e tradizioni, il meglio dei prodotti tipici calabresi. Sfiziose marmellate, funghi, patè e l'immancabile induia e peperoncino. Salumi e formaggi a chilometro zero, come il prosciutto crudo San Canolo e il delizioso pecorino del Monte Poro. Da sapori e tradizioni trovi frutta fresca e verdure di stagione. Inoltre, nel reparto pronto cuoci, troverai i nostri prodotti di rosticceria che potrete comodamente ordinare e personalizzare in base alle vostre esigenze. Vini, liquori, olio, tutto frutto della nostra bellissima Calabria. Per i palati più esigenti, il pane casereccio e ogni venerdì su ordinazione il buonissimo pane di Canolo, impastato esclusivamente a mano. Sapori e tradizioni, in via Capelleri 52 a Rocella Ionica.